Ma chi c***o è che mi chiama quando inizia il video? Pronto Arrega, buongiorno Siamo tornati ragazzi Dopo tutta un'estate di assenza Ce l'è su uno Eeeh Ehi, voglio Cosa ci fai qua? Tutte estate Tu dove eri? Dice a me che devo andare a girare ma Non lo so ragazzi Questo qua è un bastardo ragazzi Sapete perché? No no Perché questo qui fa le storielle sul Monza Pizza Parker Dove dice andiamo, veniamo, giriamo Che palle No, e sono qua tutta l'estate Mi ha lasciato da solo qua Un appunto Dobbiamo fare un appunto Perché magari ragazzi fosse tutto già così perfetto e tagliato al nostro rientro Ma in realtà sono già venuti qua Tino e il pazzo a tagliare l'erba Un applausi a Tino e uno al pazzo Il pazzo non si merita niente come al solito Siamo venuti qua perché domani riapriamo il bike park Si riapre per l'inverno Siamo venuti qua io e Albi Ci raggiunge anche Ricky Filippi probabilmente perché Sistemiamo un po' quello che c'è da sistemare Controlliamo i salti se è tutto a posto Vi faccio un po' vedere cosa succede Arrientro dopo un'estate di assenza al bike Scala al monte Ce la fa non ci credo Dai Dall'angolo che più Mille addominali non ce la fa Dai non ce l'hai fatta È come camminare sull'olio Questo è il bag Quando è troppo gonfio Noi adesso l'abbiamo gonfiato per fargli uscire tutta l'acqua Perché è entrata dentro un po' d'acqua Vai muovi se non perde il tempo Chi è che c'è la pasta? Si è sgonfio Ma è noto Allora fortunatamente Grazie al fatto che abbiamo dei teli magnifici al parche Che ci coprono tutti i salti dalle intemperie È quasi tutto a posto Eccetto qualche punto Che ovviamente si è un po' scavato Perché i teli sono vecchi E non li tengono molto più Siamo fortunati che abbiamo saputo Perché la terra che abbiamo È con i sassi E li togliamo noi Perché vedete che ci sono i sassi dentro qua Però Quando si indurisce Quindi facciamo la scena come quella di Matt Jones Ben Ben Dai Camilla Ok Dai Camilla That's like It's actually really hard for work Yes Matt Vengo a chiudere un buco di un spazio Faccio buttargli su quattro pallate di terra Bagnarla al punto giusto Fare l'impasto corretto della torta L'ha una superficie omogenea Dopodiché Non si batte così Deve abbattere con delicatezza E strisciare Quanti miei Perfetto Allora ragazzi qua abbiamo la cama Dove si stracciamo l'oro No altro che ricerca d'oro Là dietro ragazzi Noi abbiamo la foresta amazzonica Fermi tutti Questo è il tipico suono Di un uccello alboretico Suono Eccolo l'uccello alboretico Sta cercando del cibo Probabilmente ha dei cuccioli con sé Sta curando Sta cercando di scappare Facciamo attenzione ragazzi Potrebbe correre via Cattura l'albi Stacca Ragazzi vi presento Questa è la cosiddetta Giungla del park Si è formata questa giungla Proprio perché non lo usiamo mai Questo punto del park E l'abbiamo un po' lasciato così Ho trovato delle pacche di mirtilli Delle pacche di mirtilli Ragazzi Abbiamo una bietola Una bietola del park Tipica specie autottona Della zona Ragazzi sono in ritardo come al solito Scherzo col fritto Ah no È vero la cassa Ecco vedete ragazzi Siamo talmente alla bancosidia Che praticamente Vedete qui dentro C'è la cassa E tessere Varie cose che ci servono al park Ragazzi vi ricordo che la nostra associazione È una SD Quindi una realtà ancora piccola Da soli 400 tesserati all'anno circa Ok raga Mi stavo dimenticando ma oggi Viene a ritirare il giveaway Il ragazzo che aventa il giveaway Il ragazzo è di monta Quindi ragazzi sappiate che Se arrivo in ritardo al park È perché Sto facendo questo video Perdonate Ciao Sono in ritardo come al solito Va bene Ingresso normale Park o pump track Ecco qua 10 Allora come avete visto ragazzi Arriviamo Ormai c'è sempre un casino Dalla madonna Diamo sempre informazione Alle persone che vengono Facciamo tesseramenti nuovi Ingressi eccetera eccetera Vi ricordo le cose che servono Per venire al Mozza Pizza Bike Park Siccome le richieste che ci fate Sono sempre tantissime Cosa fondamentale Che non vi dovete assolutamente dimenticare È certificato medico sportivo Senza quello Non potete assolutamente girare al park Poi Se volete venire a girare Dovete fare un tesseramento Che è un tesseramento Che dura a fine a fine anno E costa 25 euro il minorenne E 30 euro il maggiorenne Volendo Abbiamo anche tutte le bici Che potete provare Per il noleggio Protezione eccetera Se non avete la vostra attrezzatura Una volta che siete tesserati Le volte dopo Pagate solo gli ingressi Ragazzi purtroppo La cosa peggiore Di tornare al Mozza Pizza Bike Park Arrivedere Il pazzo Il pazzo Il pazzo Ah Quanto è stressante Tornare al Mozza Pizza Abbastanza Poi il primo giorno 15 persone Diretto Devi fare tesseramenti Devi fare un po' di robe Perché YouTube Ci sta portando Un botto di gente Che è buona cosa Non venite più State a caldo Esatto Assolutamente buona cosa Ma dobbiamo organizzarci meglio Perché iniziamo a essere Sempre tirati coi tempi Dov'è l'alboretto Che qua è l'eroe di YouTube No di Instagram Ad Instagram È l'eroe di Instagram Ragazzi si parla del diavolo E spuntano le corna Pronto Ho preso le scarpe nuove Pronto Ciao Com'è lì la situation E c'è tanta gente Come al solito Dove sei te Ho litigato col paradenti Adesso sto arrivando Cos'è che hai fatto Ho litigato col paradenti Le solite scuse Esatto All'alboretto All'alba delle 17-19 Allora è da un anno Che ho il paradenti vecchio Vedete Un po' schifido Allora ieri sono andato A comprare due paradenti Uno da 9 euro E l'altro da 20 euro Obiettivo Albi della session Cosa possiamo far dire oggi alle persone Oggi è il primo giorno Di riapertura del Monza Pizza Albi ce l'ho Dobbiamo metterle a disagio Di arrivare di qualcosa O di particolarmente cattivo O una domanda tipo Guarda che non hai ancora fatto il testamento Vai a testar Ma hai incazzato il bolletto Io non ti vedo già incazzato Non mi sembri uno molto incazzato Per fare queste cose Buongiorno Bici? La nuova Ma che ce l'ho da un anno e mezzo Se non sai le cose non parlare Un anno e mezzo E tu ridi subito però Eh non so Devo stare al gioco Ma questa cos'è? 20? No, 26 No, 26 No, 2020 Ah No, però se non sai le cose non parlare Adesso fai un giro normale Poi quando arrivi su Gli dici tipo qualcosa Ma cattivo eh Però Non c'è spazio qua Mamma mia Che brutto Cioè silenzio Non ti ha neanche cagato nessuno Ma allora ormai lo sanno E non c'è più gusto Ma perché ti è un po' spaventato Ti è spoltato Mamma mia uno spavento ha preso Guarda Non dormirà la notte Il pazza è inutile Perché tanto il pazza È già sgarbato di suo normalmente Quindi Ti levi? È il mio posto Via Via Oh ma spostati Ma non si sposta Spostati Anche tu devi levarti Sei in mezzo Non va bene Il problema è che lui non sta neanche recitando una parte ragazzi Lui è così di suo Va bene ragazzi Il piano di essere dei bulli Non ha funzionato per niente Perché ovviamente L'alboretto è tutt'altro Al di fuori di un bullo Quindi Piano B Faremo delle interviste Lui che ha disagio Primo giorno al Monza Pizza Biker È bello Ci sta È una figata A posto Neanche troppo disagio Mi mette il disagio Sono sereiche Basta Primo giorno È primo giorno di apertura Al Monza Pizza Biker Sì Com'è? È figo Prima volta qua Tra l'altro ragazzi Con l'enduro Hai capito che l'enduro si può usare Ma è meglio Qua L'enduro Però si può girare Bravo vedi Sì Pazzo primo giorno al Monza Pizza Biker Mi sono dimenticato la bici Tutto è stato la bici Peccato che viene sempre sul bag Sul duro non viene ancora sempre Per farvi capire il disagio Non c'è più la stradina per arrivare alla rampa in mezzo Lo chiamiamo Ingepporeto O no? Uh Passato Non è vero Io vado dietro al Boreto Anche io penso di non aver mai fatto Nella mia vita Un treno dietro al Boreto Vada al Boreto Guardate qua Oh là Ha provato anche Cos'era? Topogan? X-Up Pompa giù No Ha ingheppato Non so perché L'Alboreto ha provato a passare Questo panettone Che è cortissimo È vero che c'ho È vero che c'ho E vabbè Abbiamo appena assistito A una persona Perché mettersi le protezioni importanti Vediamo Vedete Questa è la faccia Di uno che sta soffrendo in silenzio Perché è davanti a un video Per ricaricarvi e tenere le vostre energie al top Link in descrizione Tu vuoi fare i trattati sul mulch? Se lo fai giusto o lo puoi fare sul mulch? No, lo fai giusto Vai Provi sul mulch? Dai che te lo filmo Sento Oh No Dai che vogliamo Oh shit Ho sentito una sella morire Ragazzi non ho mai visto rompere un tubo sella di netto così Col ginocchio destro Vabbè sono abilità anche queste Però caparbio bravo 3-6 va la prossima volta Dovai E' alivo Eccolo qui Ciao ragazzi Ciao a tutti Lui è il ragazzo che ha vinto il giveaway I votes Non i votes come ho detto io nel video Si erano giudica I votes E ragazzi veramente Puoi ti testimoniare Non sapevo che fosse di Monza No Mi ha anche fatto risparmiare sulla spedizione Quanto ci hai messo a realizzare il La sigla che adesso vi lascio Per farvela vedere Ho fatto prima una prima versione Con meno oggetti E ci ho messo diciamo Un'oretta Poi allora ho chiesto un'aiutante Vero mia mamma E ragazzi se poteva aiutarmi Per almeno scattare Mentre io muovevo gli oggetti Perché tutto anche sui bordi Si muoveva tutto Esatto Quindi lavoro totale Saranno solo 3 ore 3 ore e mezza Pazzo Tiramelo su te Che c'è in mano la camera Grazie Schiavo pure Che battiamo con i cerotti Tutto vero Tutto vero Consegniamo ufficialmente Il super giveaway C'è tanta roba che Mentre la scaldisce Ma c'è anche questo Allora vediamo Io volevo vedere se il casco Ti andava bene Se volete in descrizione Vi lascio sempre Vedi stava già facendo la promo lui Poi c'ha i guanti della form La chicca che non stiamo qua A aprirla perché Se volete vedervi Cosa c'era dentro questa Mystery box Della Rose Andate a rivedervi il video Io non ho una cassetta Di attrezzi così bella Io ho una stuccetta Del cavolo Con dentro tutte le brughe Quindi abbiamo finalmente consegnato Il giveaway Che siamo ormai A più di 70.000 iscritti Anche se il giveaway Era quello dei 50 Ragazzi tra un po' C'è quello dei 100.000 Quindi iscrivetevi al canale Perché quando arrivano a 100.000 Sbanchiamo ragazzi Esatto Sbanchiamo Con Ivan Concludiamo questo video Sei contento del giveaway? Assolutamente Adesso Prendo la telecamera Mi rirai tutto Che forse Grazie di aver visto questo video Grazie di essere venuto Direttamente a prendere Il giveaway Così abbiamo potuto documentare la cosa Spero che anche questo video Vi sia piaciuto Il Monza Pizza Biker Finalmente ha riaperto Quindi Come avete visto in questo video Potete venire a girare Se avete bisogno di informazioni Scrivete alla pagina del Monza Pizza Biker Che vi risponde Non sfammate sulla pagina del parco Ricordatevi di scrivere anche All'alboretto Vai a girare con Toto E noi ragazzi Ci vediamo al prossimo video Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti